Un principio di incendio si è verificato stamane in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia. Le fiamme e il fumo si sono sviluppati in un locale tecnico dove sono installati gruppi di continuità. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco con 12 uomini. Il teatro La Fenice venne distrutto da un incendio doloso devastante il 29 gennaio del 1996 e poi riconsegnato alla città nel dicembre 2003 vincolato al motto com'era, dov'era. Due tecnici sono rimasti intossicati e portati in ospedale. Non risultano comunque danni alla struttura. A far scattare il principio di incendio sarebbe stato, stando alle prime verifiche, il sistema di alimentazione secondario, quello che entra in funzione in caso di blackout. Il sistema di emergenza di fatto è il gemello di quello primario usato quotidianamente per fornire energia al teatro ma anche ai macchinari di scena da luci a palcoscenico.